Questo non è un asilo come gli altri, è munito di pannelli solari, di caldaia a condensazione e di infissi che, anche se in anticorodal, sono a taglio termico, tutto per garantire energia pulita e risparmio. Sarà che ci hanno messo tre anni e mezzo a costruirlo utilizzando 700.000 euro dell'Unione Europea e 500.000 del Comune, ma adesso è pronto e da lunedì scorso accoglie 25 bambini e c'è spazio per 50, anche lattanti di tre mesi, qui sono riservati locali particolari. Per tutti ci sono spazi anche per refezione e pennichella. Siamo a San Marco in Lamis, l'asilo che ancora non ha un nome prende il posto di una struttura vecchia che è stata abbattuta. Ad inaugurarlo ci è venuto il Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti. Poi il Ministro ha visitato il vivaio forestale, creato da Consorzio di Bonifica Montana e da Parco del Gargano. Qui vengono coltivate piante tipiche del Promontorio Comuni e rare, un centinaio in tutto. Galletti ha sottolineato la necessità di prevenire il dissesto idrogeologico perché in questo modo oltre a salvare vite umane si risparmiano i costi dell'emergenza. Trovandosi in Daunia poi non ha potuto fare a meno di commentare l'ultima operazione contro il traffico di rifiuti, eseguita ieri dai carabinieri. Il Parlamento sta intervenendo con un disegno di legge sugli eco-reati, quindi rendendo più dure le pene per coloro che commettono queste tipologie di reato e anzi io spero che il Parlamento faccia in fretta ad approvare questa legge.